Ciao a tutti ragazzi sono Naeven, bentornati al mio canale, è che oggi è qua con un nuovo video di Starfield in questo video continueremo la missione iniziata nello scorso episodio e verso fine video muoveremo i primissimi passi nella molto carina, particolare, città di Neon o Nyon, come volete chiamarla ma proprio due passetti perché poi le esploreremo tra virgolette bene nel prossimo episodio io vi lascio al video ma prima vi invito già a lasciare like, commentino e iscrizione mi raccomando sulla fiducia, poi al massimo togliere tutto, nel dubbio lasciatelo già niente dai, buona visione ed eccoci qua, subito gli spazianti, così da botto ci stanno anche i nostri amichetti però dai Roma, dai eh, ancora viva, mannaggia ah, questo va a essere buono tu puoi mi raccontare, non puoi farmi fuori da me non puoi fuori da me dai 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 dai, eh va bene se non siamo solo i più easy, dai, su diciamolo, diciamolo vediamo se riusciamo a bordarlo no forse no vabbè niente qualcun altro? no? ok ottimo, ottimo, ottimo ed eccoci qua mi spariamo così senza senza pensarci troppo venite, venite, venite qua dai, non fate timidi via quella allora ok ok non la selezionavo dai Roma, dai dai questo, oddio, no ok bravissimi bravi tutti, bravi tutti posto? quindi dobbiamo tornare da Alba Lopez a piazzi 2 dai Roma, dai sì albano, ci sto albano dov'è? albano, ciao c'è qualcosa da vincularvi? chiedo, eh, chiedo no gli abbiamo già inculato tutto e questo eh, non ci serve albano, dici glad to hear you back safe and sound banda, you owe me 30 credit you're tougher than I thought easy money so while you were doing that I use the communication satellites to triangulate some spacer's chatter you did what? I'm more than just a pretty face anyway there's an old derelict star station the spacers are using as a base couldn't say it better myself there are undoubtedly a lot of spacers there both ships and men on the station itself we need to excise this cancer from our system every last one of them 100% agree so oh, glorious leader any words of wisdom or inspiration before we embark? this is it? the big one we need to bring everything we have to bear there won't be any do-over on this one va bene, va bene distrugge le nave degli spe... ah, ma quindi sempre navale la situazione ok, quindi, siamo pieni? si, quindi non possiamo far viaggio rapido cazzo vabbè, ehm ok eccoci qua ok ok spariamo e basta tanto, alla fine è quello l'importante e questo? no, anche quello ahahahah ok, l'ultima in teoria ok ah, ce ne stanno altri pareva strano che finisse così come iniziata però, la bambina che racconta cose mentre fuori c'è l'inferno non lo so un po' fuori luogo, forse ok ce la farà? eccoci qua oh, ottimo fatto, fatto, fatto iniziate l'abordaggio della stagione della stagione della stazione, scusatemi ma dov'è, scusate? sul pianeta? e questo... ah, e questa è la stazione spaziale sorry, non l'avevo vista quindi saliamo a bordo e fai... e famogli il culo dai, ero marai quindi, andiamo di... di questa che non la usiamo da un po', dai ma si, dai ah, andiamo così proprio diretti ok, mi piace, mi piace hopperà oh cristo oh attira sta cazzo di gran... ah no, perché ho fatto... scusate, è colpa mia così di giustezza eccoci qua hopperà hopperà inseguiamo questo... figlio di... buona donna che è morto e ci stanno questi due, quindi che sono non qua volevo guarda che faccia, non me l'aspettavo ma che cristo ok eh... eh... no eh no eh vabbè eh... ok eh... lol troverò una canzoncina figa da metterci sotto quando li trovo... ah, un'altra ma in che senso? ma che hanno i contenitori in questo gioco? anzi, in questa stazione spaziale tutti... impazziti oh, però non ti si vede neanche, però... eh, che cosa spiazza in realtà noi facciamo gli spavaldi, ma... comunque un po' di cure sono necessarie fra, basta dai cristo oh no, sei unita se sei... se sei tolto da questo sei unita all'altro ma in che senso vabbè ok un descensore dobbiamo andare dove? io luto tutto dopo ma spero che non succeda qualcosa per cui io non posso più lutarli urlo se è così eh, ma a proposito scusatemi perché vabbè che non abbiamo ossigeno e l'abbiamo usato, ok però questo eh eh è è la nostra fra? dai che bellina eh sì che è la nostra eh sì lo so fra lo so c'è qualcun altro da macellare? chiedo eh se si potesse no, dico se si potesse si un ah ok è solo un'onda cosa pensavo fosse tipo una cosa lì che mi tenesse che li teneva in aria a fluttuare no, perché sbaglio sempre tasto zio pera? upela upela e piate un'altra granata allora piatele in bocca allora che te devo dire? eh questa te la sei piata però sei duro eh vabbè eri il capitano però un po' troppo cazzo di armatura ciaifra ok abbiamo arma dai andiamo di no questo è un po' troppo cattivo dai e questo upela ah fatti tutti e due manca solo uno? dov'è? non è di qua scusami ah sì ecco dove sono andato io prima che non c'ero? non qua ho sbagliato io eh vabbè parla con alban lopez ma abbiamo finito? eh ma quindi dobbiamo tornare indietro dico bene eh sì abbastanza quindi direi che sepollutà urban eagle? ma è nuova? è una desert eagle futuristica spaziale potrebbe essere simpatica la proviamo? ma certo che la proviamo ok forse abbiamo trovato un altro fucile nuovo scusami disrupter? si scusa equipaggio non è un attimo voglio vedete che cristo è oh scusa non volevo allora come arma non mi fa impazzire poi non so se possa essere forte effettivamente o no banchetto da lavoro? per la tuta potremmo vedere cosa magari potenziamo questa perché tanto credo di tenerla per un po' perché stonks e resistenza ai danni si può fare cosmetico ne abbiamo solo uno però vabbè capacità ossigeno eh e questo si dai resistenza ai danni si fa tanto comunque in realtà anche questo può essere che ce lo teniamo per un po' quindi raga ce l'avemmo fatta non ci sono non ci sono non ci sono non ci sono e ora è legato a noi per continuare a continuare molto diplomatico è una città di sicuramente ma sembra bello la resta della famiglia e io beh... abbiamo chiesto per una riconoscenza lo so che è probabilmente una pittance rispetto a quello che qualcuno ha fatto ma uh... siamo poveri fattori e minorsi cercando di andare a cercare io... penso che ho bisogno di cercare ora non voglio... non lo so non lo so ho la mia bella reputazione di mantenere se sei sempre in questo sistema venite e visitate vi darò una buona benvenzione per gli anni prima cosa andiamo a liberarci perchè quello è importante è importante per primissimissimissima cosa torniamo sulla nave e vediamo un po' di ricerchine dopodichè vendiamo dopo aver venduto andiamo a cercare le risorse che ci mancano per le ricerche per le ricerche per le ricerche di livello in realtà sì sì dai dai ok quindi zaino questo ce l'ho questo ce l'ho alluminio c'è questo possiamo farlo ok si è più improvviso si gode ok abbiamo tutto ottimo giustamente in realtà questo possiamo farlo possiamo farlo ok si è più grande possiamo fare proprio questo sì ok si è più improvviso di nuovo ok mixologia vabbè si abbiamo tutto poi non abbiamo tutto ok si è più improvviso anche qua nel live ma anche nella registrazione e detto questo senza indugio sussegugio allora mmm compriamo un po' di risorse quindi ok la ricerca quindi adesso le dovremmo avere ehm tumsleno, polimeri e adesivo esatto ottimo ho fatto anche questo qua ci manca un cazzo in realtà ottimo e qua neanche perché tumsleno ce l'abbiamo adesso ottimissimo qua invece ci mancavano tumi stellari ci mancano giusto questo dobbiamo seguirle mmm quale c'è tutto no quale non è questa che non possiamo ok va buono perché abbiamo fatto anche per questi si in realtà quindi diamoli ok ehm vabbè fanno tutto vabbè fanno stigarsi ok ne ho fatto un po' di cose sono happy ehm no volevo capire abbiamo tutto così apparentemente così abbiamo tutto ok oddio ero mutato e non lo stavo registrando ah un attimo eh a che punto ero arrivato oddio ok va bene poco male poco male ehm vi siete persi solo io che diceva la capitana che avevamo tutto lei che ci diceva ci serve un passaggio con la tua nave infatti eccoli qua ok incredibile l'acqua oh è così eh è caldo ma non in una buona forma ma quindi mi devo aspettare a voi si vabbè oh scusate scusate non volevo vabbè 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 io credo se non avevi avuto la coraggio di approcciarmi quando nessuno altro sarebbe ancora stiamo 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 ok è una palla da baseball terrestre antica un salvadonnaio antico ma che cazzo sono stesse cose oh bella a me piacciono le armi moderne signori cioè le armi attuali di di adesso quelle futuristiche in realtà non mi fanno impazzire quindi vedere questa pistola è veramente bello giuro giuro e queste non le posso prendere però magari questo ci sta cosa fare cosa fare continuiamo con quella principale andiamo 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 su neon dovrebbe essere molto carina e piena di luci in teoria ecco perché si chiama neo non mi fumo non mi fumo ma smell that construction incense industrial chemicals of every kind but they still can't get rid of the order of castle bass we need to stop by the stroud equipment offices there are certain authorization procedures when large funds are being transferred even for something like this allora union security no bro che fate no la raga stai zitto che stanno ammazzare un cristiano vabbè corruzione abbiamo capito questo è un negozio vabbè in realtà abbiamo già venduto quindi un compagno utile guardare ehm quindi con chi dobbiamo parlare scusatemi oh salve ah ma è la sua lol non ce l'ho fatto caso vabbè ho capito vi interrompo oh no ok dobbiamo ascoltare invece oh no ok dobbiamo ascoltare invece ehm 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 che Sta a prendere per il culo. Vabbè, sì, magari non ti guadiamo. Solo dopo aver fatto un hack in to mind. Dicami, potrebbe essere distruttato a un punto in cui è in realtà lo stesso come un confruttato? Un locale in sicure per un incontro per un incontro per un incontro. Questo era il punto. Un territorio neutro in the open. Con nessuna propria. Oh, dovresti mandare me aiutare. È stato molto lungo. Allora, ho tutto questo che si occupa. Un'investigazione nel cello. Cosa motiva loro? Poi, alcune case preliminari del lounge astro per le leggi di sicurezza. Dicono l'avventura se le cose siano male. Prendere alcuni biancheri, alterare i codi sulle porte. Sì, esatto. Ok, devo farlo io, vabbè. Sì. 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 Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio per la visione. Ciao. Ciao.